forza fatelo venire qua dentro salve buonasera signore in giacca e cravatta che mi sembra donald trump ma verde salve lei signor roberto si io sono roberto cognome roberto a roberto roberto no solo roberto a ok capisco da dove viene dal pakistan dai di la verità dalla serbia e perché se qua in italia perché se stai lì non serve a niente per casa è stato lei a bruciare la chiesa e no mica è colpa mia che le vecchiette sono così incazzate in che senso minchia io ho tirato una bestemmia piccolina se la so presa così io ho bruciato la chiesa per dispetto è un arresto ma che stai c'è no tu vuoi buscare vuoi buscare uè 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 signor roberto si calmi sicurezza sicurezza se la mia figlia è pagata doveithe cucina ma la fanno piccola a chi te piccola cosa sta succedendo attento signore si calmi signore minchia mi dia succiano minchia la devo distruggere devo distruggere aiuto ma vi brutto cacchio vaffanculo vaffanculo batte la pia tutta nel cuo ciao roberto ciao roberto ditemi se che danno sta aperto ma perché che è successo sto con gacchiato dimmi se che danno sta aperto 30 di ruote si si sta aperto sta aperto ok ma levata vita al cacchio ai daranno subito una nuova era perché che è successo taci di tramo subito una nucleare subito subito sono nata anche a pavaropo ma di spostriato proprio o ma spiemi a pavarò mi sai dire dove è scappato questo roberto no non lo so dove è scappato bellissimo non arredate o eccolo metti subito le mani in alto ma vaffanculo